Grazie, grazie Carlo. Pochi minuti per condividere con voi il perché di questo passaggio, cioè perché dentro Smart City Exhibition noi quest'anno abbiamo introdotto così fortemente il tema dei dati e questo convegno dal titolo importante Data Driven Decision. Ma il contesto di riferimento è quello abbastanza noto a tutti quanti, cioè noi ci troviamo di fronte a una complessità dei sistemi urbani sempre più articolata, una complessità appunto che ci porta a problemi di gestione del territorio. C'è questo studioso Goldsmith che è stato anche vice sindaco di New York a tempi di Bloomberg, lui è sia un intellettuale che è uno che poi invece le città le ha governate davvero di prima mano. Lui scrive in questo ultimo libro una frase importante, se tu non puoi misurarla non puoi gestirla, esattamente partendo da questo presupposto, di fronte a fenomeni sempre più complessi è difficile gestire un territorio se non lo conosciamo, se non lo misuriamo. Quindi c'è un problema di analisi, un problema di conoscenza. A questo c'è poi un problema di inadeguatezza dei sistemi attuali di governance del territorio, ci troviamo di fronte a delle cronache di tutti i giorni, a delle realtà urbane che devono fare di più spendendo di meno, devono fare di più perché abbiamo detto ci troviamo di fronte a una realtà sempre più complessa, spendendo di meno perché le risorse sono quelle che sappiamo. E questo mette in evidenza appunto non solo dei problemi di natura congiunturale, ma dei problemi di natura strutturale, cioè la pubblica amministrazione così come noi la conosciamo non è più in grado, così come è organizzata, di gestire fenomeni complessi. Sempre citando un americano, questa volta un pochino più importante e conosciuto, Obama parlando alla nazione nel 2011 disse non possiamo gestire il futuro con una pubblica amministrazione del passato. Ecco, se questo vale per gli Stati Uniti è evidente che lo è ancora di più per un paese come l'Italia. È difficile gestire il futuro con una pubblica amministrazione gerarchica, burocratica, basata su modelli che ormai appunto non sono più adeguati. Non a caso appunto qui a Smart Cities, che arriviamo quest'anno, non per la prima volta di modelli emergenti, che vanno dalla sharing economy, ai temi appunto della condivisione. In questo contesto i dati diventano una risorsa, diventano una risorsa sia in termini appunto di analisi dei bisogni, di analisi delle fenomenologie che ci troviamo a gestire, e sia in termini di razionalizzazione, razionalizzazione della spesa, dei servizi, della performance, delle decisioni. Quindi appunto la conoscenza diventa la base per una miglior gestione del territorio e quindi delle aree urbane. Ma di quali dati parliamo? Prima di tutto ovviamente parliamo di dati istituzionali. Non mi soffermo, qui abbiamo ovviamente rappresentati nel miglior dei modi attraverso il Presidente dell'Istat. Il patrimonio gigantesco che abbiamo di dati istituzionali. Cito solo uno dei tantissimi rapporti che ho usato recentemente, il rapporto sulla mobilità, pubblicato dall'Istat qualche mese fa, ma tanto per citarne uno fra tanti. Poi ci sono i dati di produzione. Cioè la pubblica amministrazione nel funzionare, nel suo operato quotidiano, comunque produce dei dati. Faccio l'esempio della fatturazione elettronica. Sapete che da pochi mesi la pubblica amministrazione può accettare solo fatture elettroniche. Bene, è un patrimonio gigantesco di informazioni. Parliamo di 2 milioni di imprese fornitrici dell'APA che mandano fatture elettroniche, quindi BIT, non fatture cartacee. 21 mila enti coinvolti, 36 mila uffici. Al di là della razionalizzazione che questo comporta in termini di dematerializzazione, il funzionamento stesso della pubblica amministrazione diventa un patrimonio incredibile di informazioni. su chi sono i fornitori, su quali sono le spese. Così come appunto informazioni tipo i bilanci comunali, i feedback che vengono dai CRM. Cito uno dei primi, una delle poche cose di cui Roma si può avvantare, lo 060606 che è uno dei primi call center cittadini a livello metropolitano. I dati delle pubbliche amministrazioni nel momento in cui poi vengono pubblicati, resi disponibili diventano open government data, diventano dati accessibili al territorio, all'impresa, alle associazioni, alle aziende. Noi stessi, proprio quegli amici di Data Group, stiamo lavorando ormai da mesi al portale di Open Data Lazio, il portale della regione Lazio sugli Open Data. ma insomma è una delle esperienze. Ci sono il portale pubblicato e gestito da OpenCivitas, c'è il portale nazionale dati.gov.it gestito dall'Agid. Insomma voglio dire, quello degli Open Data è un fenomeno emergente importante, la conoscenza che viene restituita a coloro che poi sul territorio operano tutti i giorni, sia sotto forma di associazioni che di aziende. Poi ci sono i dati prodotti dai cittadini, lo diceva prima il sindaco, anche con una vena ovviamente di preoccupazione. Quello che viene chiamato il crowd sensing, ormai tutti noi siamo dei sensori, con i nostri terminali che abbiamo in tasca, ma anche con i device che acquistiamo. Ad esempio nel momento in cui compriamo un termometro, una stazione meteorologica di nuova generazione, fatta da due sensori, uno che metto in balcone, uno che metto dentro casa, io sono un consumatore che compra un prodotto di nuova generazione. Nel momento in cui torno a casa e questo prodotto lo metto in rete, io divento un produttore di informazioni, quindi da consumatore divento un produttore di informazioni. Quella è la mappa di Roma con tutte le indicazioni delle temperature che vengono da questo prodotto specifico, questo è uno dei prodotti che stanno sul mercato, e quella è la mappa di Roma con le indicazioni delle temperature. Questo, come tanti altri prodotti, indica temperatura, indica qualità dell'aria e il livello di inquinamento di rumore, di decibel. Quindi appunto cambia anche il ruolo come cittadino. Ma questo c'è in tutte le attività che noi facciamo. L'Atom Tom ha pubblicato qualche mese fa un studio sulla mobilità in Europa basato su 6 trilioni di segnalazioni di GPS, alimentato da 50 milioni di cittadini che anche lì da consumatori, cioè da cittadini che hanno comprato un prodotto, un navigatore satellitare, diventano più o meno consapevolmente fornitori di informazioni andando a presentare e a costituire un'indagine gigantesca sulla mobilità in Europa. Poi c'è il crowd sentiment, quello che diceva prima il cittadino, cioè le informazioni che vengono dai social network, che sapete appunto su questo si lavora a livello mondiale, c'è il famoso flù di Google sull'analisi delle epidemie influenzali, c'è l'analisi dei flussi turistici, c'è l'analisi del sentiment rispetto ai servizi pubblici. L'Atac, sempre romana, ha appena fatto un'indagine appunto sul sentiment dei suoi utilizzatori, dei suoi clienti. Eh, coraggioso, infatti nessuno sa i risultati, lo sanno solo loro. Ma spesso i cittadini sono fornitori di informazioni, non solo inconsapevoli come sensori, ma proprio come soggetti attivi. Quello che invece è il concetto di crowdsourcing, cioè nel momento in cui io, partendo dall'esperienza anglosassone, di Fix My Street, come cittadino attraverso un'app, segnalo che c'è una buca sul mio, da qui viene il Fix My Street anglosassone, nella mia strada c'è un lampione che non funziona, o c'è una buca che si è aperta con il maltempo, diventa un fornitore esplicito di informazioni. No? Quindi non diventa un semplice sensore, ma un fornitore di informazioni consapevole. I contest e così via. Ma insomma, accanto ai cittadini ci sono le imprese, le imprese che producono sia i dati ufficiali, anche in questo caso, la rendicontazione sociale e ambientale, ma anche informazioni appunto dovute ai loro servizi. Ad esempio sarebbe interessante, a proposito di Open Data, ed è un qualche cosa che si sta diffondendo sempre più a livello internazionale, una logica di smart disclosure, cominciare anche a chiedere alle aziende private di mettere e condividere alcune informazioni. Ovviamente non quelle sensibili, ma magari, faccio un esempio, magari su una grande libreria online, sarebbe interessante, per chi si occupa di cultura o di programmazione in Italia, sapere appunto cosa leggono gli italiani, cosa comprono i nostri ragazzi, come consumano a punto di vista culturale. Eppure sono dati che invece, allo stato attuale, le aziende si tengono ben stretti. Insomma, veniviamo in un mondo di petabyte. La domanda di oggi, la domanda un po' che ci siamo posti, organizzando Smart City Exhibition, come vi dicevo, con un programma molto fitto di riflessioni su questi temi, è l'APA, l'APA è pronta, l'APA intesa, sia dal punto di vista del corpaccione istituzionale e burocratico, sia dal punto di vista politico, è pronta a gestire questo passaggio epocale, sia in termini di competenze. L'altro giorno a un convegno mettevo in evidenza come appunto noi di fatto poi ci troviamo davanti a una classe di funzionari dirigenti tra la più vecchia in Europa e tra la meno istruita in Europa. Considerate che un funzionario, un dirigente italiano, mediamente accede attualmente a 0,5 giorni di formazione all'anno contro gli 8 e i 10 dei funzionari degli altri paesi. Possiamo gestire il cambiamento appunto con un corpaccione che spesso non ha le competenze e non ha neanche gli strumenti per adeguare queste competenze. Esistono gli strumenti? Esiste una cultura del data-driven decision tra i nostri politici? Quello che noi ci ospichiamo è proprio questo passaggio e con questo chiudo e vi ridò la parola e spero di avervi un minimo provocato. Esiste questa capacità di trasformare i dati grezzi in informazioni, informazioni in conoscenza e la conoscenza in decisione e anche quella capacità ovviamente di distinguere informazioni valide. Aveva ragione prima il sindaco è evidente che tra il rapporto Istat sulla mobilità e un Twitter che dice il ponte sta crollando c'è una certa differenza in termini di qualità del dato. Abbiamo la capacità appunto di gestire questo overload di informazioni. Questo è un po' il tema, le domande che noi ci siamo posti e speriamo almeno in parte comunque di avviare un ragionamento all'interno e insieme ai partner che ci stanno seguendo in questi tre giorni di lavoro partendo di oggi. Grazie Carlo a voi. Grazie Gianni. Poi questo, noi lo chiamiamo il polpo, lui c'ha questa abitudine di usare questo sistema di mappe concettuali e io lo chiamo polpo e poi il polpo sarà sul nostro sito e quindi potremo vedere tutti questi pezzi che ci ha fatto vedere Gianni, li potremo vedere unitariamente in un ragionamento su come noi vediamo in questo momento i dati per la città.